Benvenuti a questo nuovo webinar realizzato nell'ambito della quarta edizione dell'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola. Questa volta l'argomento riguarderà più propriamente la seconda parte del contest, ovvero la realizzazione del progetto creativo. Quindi leggere dati, scrivere storie, progettare e realizzare un elaborato sul tema censimento e territorio. Molti di voi siete reduci dunque dalle censicare, la vostra classe ha sfidato altre classi distribuite in tutta Italia nel corso della competizione statistica. Adesso terminate le censicare ci avviamo ad un altro aspetto del progetto che è allo stesso modo molto importante ed è collegato con la prima parte del contest. I ragazzi fino a questo momento hanno appreso delle informazioni e delle nozioni, hanno conosciuto gli strumenti per accedere all'informazione statistica ufficiale, hanno usato questi dati per capire e comprendere meglio il proprio territorio. Si sono sfidati per vedere quanto questi dati fossero rimasti anche impressi, avessero colpito la loro immaginazione. A questo punto questi dati utilizziamoli per fare che cosa? Per raccontare il nostro territorio partendo proprio dall'informazione statistica, quindi da le censicare al progetto creativo. I progetti creativi che le classi sono chiamate a realizzare sono focalizzate proprio sul tema censimento e territorio. Ovviamente come tutta l'iniziativa è declinata per ordine scolastico, quindi i bambini di scuola primaria sono chiamati a realizzare un racconto che può essere una storia o un fumetto che dovrà essere al massimo di tre facciate, quindi tre pagine. E che cos'è questo racconto? Semplicemente un testo che può essere liberamente arricchito da immagini, disegni, foto, collage. È importante che all'interno di questo testo non vi siano immagini riconoscibili, non so, qualche foto di alunno o di insegnanti oppure di soggetti terzi, proprio per evitare di dover chiedere poi le liberatorie. È possibile utilizzare qualsiasi supporto e anche qualsiasi tecnica di realizzazione di questo racconto, tra i supporti sbizzarritevi, cartoncini, fogli, testi scritti a mano oppure al computer, non ci sono regole. Per i ragazzi invece di scuola secondaria di primo grado è richiesta un'istantanea, che può essere un'infografica, una card, una foto. Questa istantanea ha anche essa dei limiti, quindi deve essere racchiusa all'interno di una facciata e può essere un qualsiasi contributo di tipo statico. Noi non diamo dei formati precisi per questa istantanea, quindi i ragazzi sono veramente liberi di realizzare questo prodotto con qualsiasi tipo di tecnica visuale, dove le immagini anche in questo caso possono essere arricchite da testi, da grafici, da disegni. Allo stesso modo non è possibile utilizzare immagini di volti riconoscibili, quindi di bambini, di insegnanti. Anche qui i ragazzi si possono sbizzarrire utilizzando qualsiasi tipo di supporto, fogli, cartoncini, disegni a mano o al computer. Molti di voi ci presentano, è capitato, lavori molto elaborati, quindi non so, istantanei interattive, oppure racconti che si sviluppano in numerose slide di PowerPoint. Tutto questo va benissimo, voi siete liberi anche di raccogliere in prodotti molto più elaborati tutto il vostro studio, la vostra ricerca che avete condotto fino a questo momento. L'essenziale va però che il progetto creativo sia questo, cioè un racconto per le scuole elementari e un'istantanea per le scuole secondarie di primo grado. Durante il primo anno abbiamo dato la possibilità anche di realizzare dei video. Quell'anno fu bellissimo perché avevamo costruito tante liberatorie che poi voi insegnanti avete preso il compito di far firmare ai genitori dei vostri alunni per poter anche riprendere questi bambini per essere riprese voi stessi. Questa bellissima abitudine che speriamo di poter reintrodurre dal prossimo anno lo abbiamo sospesa in questo periodo perché nel corso della pandemia voi insegnanti siete stati afflitti da tante difficoltà. Darvi l'incombenza e l'onere anche di far firmare tutte queste liberatorie in momenti in cui non si sapeva se la didattica poteva essere in presenza o a distanza poteva essere un aggravio eccessivo. Per cui lo abbiamo sospeso. Ecco perché per questa edizione confermiamo l'importanza di non utilizzare dati sensibili perché altrimenti noi questi progetti e questi prodotti ce li possiamo guardare, li possiamo anche valutare, ma poi non li possiamo pubblicare, non li possiamo mettere online, non possiamo dare una restituzione al vostro lavoro. Quindi mi raccomando fate attenzione su questo aspetto, lo ripeteremo forse fino a stancarvi, come ripeteremo forse fino a stancarvi, l'importanza di rimanere anche entro dei limiti. Quindi abbiamo detto tre facciate per un racconto, una facciata per l'istantanea. Qualche indicazione su come realizzare questo progetto creativo. Noi non vi possiamo insegnare assolutamente niente, voi avrete i vostri metodi, i vostri strumenti. Come in tutto il progetto noi forniamo dei contenuti, forniamo delle guide per darvi degli stimoli qualora ne aveste bisogno, quindi un pochino come adesso, ma è ovvio che voi insegnanti siete liberissimi di condurre questo percorso con i vostri ragazzi nel modo che credete più opportuno. Noi oggi cerchiamo di darvi qualche aiuto, qualche indicazione, qualche ispirazione e di condividere con voi quello che anche noi pensiamo. Poi a vostra volta sarebbe bello anche sapere quello che a voi piacerebbe fare in modo da incontrarci e far crescere sempre di più questa iniziativa che ha lo scopo proprio quello di portare un contributo positivo. Quindi ecco se voi avete delle indicazioni per aiutarci a migliorare noi siamo disponibilissimi, anzi grati di queste vostre riflessioni. Quindi l'idea è realizzare un prodotto di comunicazione, no? E quindi a che cosa serve? Far capire ai ragazzi che loro attraverso l'informazione statistica sono in grado di trasferire un messaggio, quindi anche di far acquistare consapevolezza rispetto al proprio territorio che noi siamo abituati a conoscere con il nostro sguardo, con le nostre abitudini, però avere un approccio anche alle quantità che raccontano e spiegano questo territorio è molto utile per averne una maggiore consapevolezza. Quindi i ragazzi poi sono chiamati a utilizzare questa informazione statistica per trasmettere un messaggio. E come si può trasmettere questo messaggio? Noi invitiamo i ragazzi a scrivere una storia, raccontare una storia che è il modo forse più semplice ed efficace per rappresentare un contenuto. E quale storia raccontiamo? Ovviamente rispetto a questo siete liberissimi, ognuno può scegliere il tipo di narrazione, il modo in cui questa narrazione può essere veicolata, abbiamo detto può essere un testo, può essere un disegno arricchito di testi, può essere una foto arricchita di dati. Queste sono scelte che compirete voi in autonomia insieme a vostri alunni. Qualche indicazione su come si progetta la storia? Anche in questo caso noi non siamo in grado assolutamente di insegnarvi nulla, diamo così degli input. Ovviamente quando si approccia alla costruzione di una storia è importante definire un obiettivo. Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere nella rappresentazione di questo progetto? E soprattutto a chi mi sto rivolgendo? Chi è il mio target? Che cosa voglio raccontare? Una parte del mio territorio? La mia classe? La mia città? Oppure il mio paese? Proprio l'Italia in generale? E in che modo voglio raccontarlo? Lo voglio raccontare con un disegno arricchito di testi? Lo voglio raccontare attraverso una successione di grafici? Oppure con una foto? Qual è il messaggio finale che io voglio raggiungere? Poi affronteremo, ecco vi mostrerò qualche progetto creativo che è stato realizzato negli anni scorsi ed è molto bello che i ragazzi hanno veramente mandato un messaggio in tutti i progetti che hanno realizzato. E poi soprattutto, e questo è un aspetto importante sul quale noi battiamo molto all'interno dei nostri materiali formativi, di quali fonti dispongo? Ecco, l'ISTAT fornisce fonti di statistica ufficiale. Ecco, questa per esempio è una fonte che noi cerchiamo di veicolarvi perché appunto è un'informazione quantitativa ufficiale. Allora, i ragazzi di scuola primaria abbiamo detto che sono chiamati a realizzare un racconto. Crea un racconto, quindi la cosa più bella qui è che si può mettere insieme la fantasia, tutti noi abbiamo molta fantasia sicuramente, ma i bambini in particolare, unitamente alle nozioni che abbiamo appreso durante le riflessioni condotte in classe. E qui vorrei aprire una piccola parentesi. Noi forniamo un materiale formativo che è abbastanza completo, no? Ma ripeto sempre che voi di questi contenuti potete tirar fuori le informazioni e concetti che ritenete più opportuni per il vostro gruppo classe. Essi possono essere benissimo declinati, quindi su dieci nozioni voi potete centrare l'attenzione magari solo su una, proprio su questa costruire un progetto di comunicazione, un progetto creativo. Lo scopo di questa iniziativa è far capire che la statistica è importante, a che cosa serve la statistica, a cosa servono i censimenti. Quindi poi quanto di tutto quello che noi inseriamo all'interno di questi contenuti voi ritenete opportuno portare in aula, questo ovviamente lo stabilite solo voi. Quindi a questo punto mettendo insieme fantasia e nozioni si costruisce la traccia di una storia che deve essere originale, quindi qualcosa di inedito che non è stato già scritto. E qui si definiscono perciò i personaggi, per esempio i protagonisti, i luoghi, il periodo storico che non necessariamente può essere quello attuale in corso, ma sfruttando le serie storiche, i dati del passato si può raccontare qualcosa che è già accaduto tanto tempo fa. E poi sì, la storia si avvicenda secondo uno schema logico, via un'introduzione, uno sviluppo, una conclusione. E questa storia può essere arricchita da dialoghi, da immagini, da disegni. Anche disegni fatti a mano, il fatto che voi siete chiamati a mandarci questo prodotto in digitale non significa che debba essere un prodotto che nasce digitale, certamente può esserlo, ma moltissimi disegni noi abbiamo ricevuto che poi sono stati opportunamente scansionati e trasmessi in formato pdf. Per i ragazzi di scuola secondaria di primo grado chiediamo appunto un istantaneo, anche qui crea la tua istantanea, anche qui ci vuole un'idea originale, inedita, nuova, che può nascere proprio magari da un dato, viene fuori un'intuizione colpiti da un'informazione quantitativa. E poi bisogna definire quindi il messaggio che anche in questo caso si intende diffondere. A quel punto definito, trovata l'idea originale, definito il messaggio che si vuole veicolare, si iniziano a raccogliere dei dati, quindi a organizzarli e sono quei dati che ci servono poi per raggiungere il nostro obiettivo informativo. Si sceglie un supporto da utilizzare per veicolare questa informazione, si stabilisce anche la tipologia di contenuti che può essere la più varia, quindi testo, immagini, grafici e anche in questo caso si avvia la costruzione dei testi. Per realizzare un'infografica potete utilizzare anche dei software gratuiti che sono liberamente scaricabili online, ma anche qui potete sbizzarrirvi come meglio credete. Quindi con pochi numeri si può raccontare una storia, questo è certo. Quindi in estrema sintesi come procedere? Scegliere un argomento da rappresentare, individuare le informazioni statistiche necessarie tramite le banche dati istat che nel frattempo i ragazzi hanno imparato ad utilizzare, quindi abbiamo il data browser, abbiamo censimenti permanenti, abbiamo i.stat, 8000 census, il contanomi per i più piccoli, qualsiasi banca dati voi siete in grado di, avete insegnato ai vostri allunni a utilizzare, può essere una fonte importantissima di quantità da utilizzare per la realizzazione del progetto creativo. Poi si immagina un percorso di rappresentazione, quindi può essere anche un cartellone che poi andrete a fotografare, un disegno, una fotografia, una ricerca. E poi a quel punto si racconta il proprio territorio, ecco il tema, censimento e territorio, che può essere anche qui descritto nella maniera più libera possibile, quindi potete concentrarvi sulla realtà locale, ma anche su quella regionale o quella del paese tutto. Importante nella realizzazione di questo messaggio che il prodotto abbiamo detto deve essere inedito, quindi originale, i contenuti che voi andate a inserire all'interno del vostro prodotto devono essere in libero accesso, oppure realizzati voi personalmente, quindi anziché magari andare a prendere una fotografia da internet e a non avere la certezza che questa possa essere utilizzata, si può scattare una foto autonomamente. E poi, come vi ho detto all'inizio, e vi ho promesso che ve l'avrei ripetuto tante volte, di non utilizzare dei contenuti riferiti a persone riconoscibili, quindi fotografia di alunni e insegnanti e di soggetti esterni alla classe. Poi, adesso stiamo uscendo dall'emergenza della pandemia, speriamo il prossimo anno di poter ritornare all'idea originaria di questo progetto e quindi la cosa che ci piaceva molto era anche mettere i ragazzi nella condizione di farsi vedere, perché adesso vedremo qualche prodotto della prima edizione, abbiamo visto come i ragazzi erano fieri di mostrarsi, di far vedere i volti di coloro che hanno lavorato per realizzare questi bellissimi progetti, quindi speriamo il prossimo anno di poter ritornare all'idea originaria e questo significa che avrete qualche foglio in più da far firmare, sperando che questo non vi crei troppi problemi. Allora, andiamo a vedere un pochettino per aiutarvi, ho pensato, per darvi qualche indicazione su come realizzare un progetto creativo, andiamo a vedere quello che è stato fatto fino a questo momento. Allora, quest'anno è in corso la quarta edizione dell'iniziativa, tra il 2019 e il 2021 si sono svolte le prime tre edizioni che hanno raccolto 15 mila alunni e quindi questo per noi è una grande gioia, noi ringraziamo voi insegnanti per aver consentito di raggiungere così tanti ragazzi e considerando anche che era il periodo difficile della pandemia, infatti lo scorso anno abbiamo avuto un bel espluato di 7 mila alunni, 351 classi e 174 scuole. Questi che vedete sono dei francobollini, degli screenshot e dei progetti creativi che hanno vinto nel corso dell'edizione del 2019 e del 2020. In totale ci sono arrivati nei primi tre anni di iniziativa 421 progetti creativi, vi assicuro uno più bello dell'altro, sicuramente tra di voi c'è qualche insegnante che ha già partecipato quindi me lo potrà confermare e questi progetti sono tutti caricati sul sito originario di quest'iniziativa che è censimento.scuola.giorno.it e quindi voi potete trovare i progetti dell'edizione 2019, dell'edizione 2020 e dell'edizione 2021. Quella che è in corso è l'edizione 2022, l'anno è quello di partenza, quindi l'iniziativa parte ottobre per cui anche qualcuno di voi ci ha chiesto ma come mai non ci sono le scienziare 2023 in piattaforma, perché in realtà quelle in corso erano il 2022. Su questa data ci sono tante riflessioni da compiere perché se può essere forviante probabilmente l'anno prossimo passeremo direttamente all'edizione 2024, il che significa che non avremo saltato quella del 2023, ma ci saremo allineati con la fine della fase del progetto, ovvero la fase clou che è quella del contest. Io vorrei a questo punto mostrarvi qualche progetto. Abbiamo un po' di tempo, se mi dilungo Franco mi fermerà e io intanto vado avanti. Allora, il primo anno a vincere per la categoria scuole primarie abbiamo avuto un racconto bellissimo realizzato dalla classe terza della scuola Giovanni Pascoli di Besozzo in provincia di Varese che si intitolava, che si intitola, Corrispondenza dallo spazio ed è una storia molto carina in cui un alieno di nome Stat scrive una lettera ai bambini di questa classe raccontando la sua giornata, le sue abitudini e questo racconto stimola molto i bambini a cercare anche di capire loro invece come si comportano e quindi in classe avviano tutta una serie di indagini con l'obiettivo di conoscersi e anche di migliorarsi. Indagini rispetto alle abitudini, a come trascorrono il tempo libero, a quanti libri leggono, all'attività sportiva condotta e la cosa più interessante che hanno capito questi ragazzi e qui ritorno al concetto di messaggio iniziale di cui parlavo è che i ragazzi che leggevano di più al termine di questo progetto, di questa iniziativa erano proprio quelli che all'inizio dell'anno non toccavano libri. Quindi l'idea di mettersi in gioco e realizzare qualche cosa insieme li aveva stimolati ad andare a colmare qualche lacuna di abitudini che loro avevano come poteva essere la lettura dei libri. Questo progetto ci è piaciuto così tanto che abbiamo noi stessi realizzato una storia su questo progetto, una storia multimediale che vi vorrei mostrare. Quindi adesso devo uscire da questa condivisione e avviarne un'altra che include anche l'audio del computer. Quindi fatemi sapere se funziona tutto. Franco se non si sente l'audio me lo dirai per favore. Francesca, solo che non sentiamo e non vediamo più che altro. Hai già partito? Eh, è partito. Allora non sono riuscita a condividerlo. Ecco, ti ringrazio di avermelo detto. Scusa, pensavo che... no, perché non sentiamo e non vediamo nulla in realtà. Vediamo te, ma non... Riproviamo. Riprovo un'ultima volta se non dovesse riuscirci. Allora, questo. Questo. Vediamo. ora. Ora si vede, ma non è ancora partito. Ecco, sì. Mi chiamo Michelle e in questo progetto ho provato un po' di paura perché pensavo che la lettera fosse del dirigente scolastico, perché qualche giorno prima avevamo fatto un po' i monelli. Tanta curiosità perché non pensavo proprio che la lettera fosse stata scritta da un alieno. Infatti mi sono divertita tanto ascoltando le cose strane che faceva l'alieno, tipo un bagno gelato prima di cena. però la cosa che mi ha colpito di più è che è emersa da questo censimento e che i bambini che hanno letto più libri sono quelli che all'inizio della scuola non conoscevano bene l'italiano. E questa esperienza ci ha portato a leggere più libri. Ciao, io sono Moz e in questo progetto ho provato molta felicità perché non avevo mai parlato con un alieno e mi piaceva incominciare un nuovo progetto. Ho anche provato poca curiosità perché non sapevo chi aveva scritto la lettera, perché gli alieni non scrivono. Ho provato anche un po' di tristezza perché volevo vedere l'alieno e parlargli, sperando che capisca la mia lingua. E molto amore perché mi sono divertito moltissimo. Questo progetto mi è piaciuto molto. Sono Dardi. Un alieno ci ha mandato una lettera e inizialmente avevo un po' di paura, ma quando abbiamo finito di leggerla mi sono emozionato tanto. Sono contenta del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Questo progetto mi è piaciuto moltissimo e sono molto felice che io e la mia classe siamo riusciti a vincere il concorso. Ecco spero vi sia piaciuto. Vediamo se riesco a tornare alle slide. Ciao io sono Pop. Ciao Pop. Io mi chiamo Davide. Quanti anni hai Davide? Franco tu ci sei? Sì. Qua sto quasi sì. Allora riparto con le slide. Se le vediamo. ma sarò contenta. Le vedete? Sì? Se di solo fare la presentazione basta di far partire. Ecco va bene. Adesso dunque quindi quello che avete visto è stata l'intervista dei bambini che hanno vinto la prima edizione della categoria scuole primarie e da questa intervista noi abbiamo ricavato un video. I bambini sono entrati anche loro nel mondo di Pop e hanno rappresentato le loro emozioni nel realizzare questo progetto creativo e per noi è stata un'emozione ascoltare le loro parole al punto tale che li abbiamo appunto fissati in questo prodotto di comunicazione. i vincitori della prima edizione della sezione scuole secondarie primo grado hanno realizzato appunto un video perché vi ripetevo che nel primo anno abbiamo iniziato appunto con la richiesta di un video e questi sono i ragazzi della classe prima dell'istituto comprensivo Marcello Mastroianni di Roma che hanno realizzato un video dal titolo Le nostre quattro principesse partendo proprio dal racconto della loro classe che era una classe un po' particolare perché era composta da quattro femmine e sedici maschi e questo contesto ha offerto lo spunto a questi ragazzi per discutere sugli stereotipi di genere, sulla violenza sulle donne e quindi dopo una breve introduzione attraverso il modello della doppia intervista maschio-femmina i ragazzi dimostrano come sia facile cadere in stereotipi e in atteggiamenti violenti riportando i valori percentuali riferiti alla Regione Lazio per ogni singolo tema trattato e questo è un altro video bellissimo, l'ultimo prometto che vi faccio vedere però vale assolutamente la pena perché può essere uno stimolo utile per la realizzazione del vostro progetto creativo ah non lo vedete e non lo sentite, devo uscire di nuovo dalla condivisione perché altrimenti non sentire l'audio rientrare, aggiungere l'audio e ripartire Franco tu fermami se non sentite per favore vado, si sente? questa è la nostra classe, la prima A dell'Istituto Comprensivo Mastroiani di Roma siamo in tutto 16 maschi e 4 femmine anche se le ragazze sono poche, noi ragazzi siamo sempre attenti ai loro bisogni e facciamo di tutto per farle sentire delle vere e proprie principesse tutti noi condanniamo i pregiudizi legati ai ruoli delle donne e degli uomini e siamo contrari a ogni forma di volenza sulle donne pensi che avere successo sul lavoro sia più importante per gli uomini o per le donne? sicuramente per gli uomini, è uguale per tutti il 30% della popolazione del Lazio pensa che sia più importante per gli uomini avere successo sul lavoro vabbè il 30% secondo te gli uomini sono meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche? ma quali sono le faccende domestiche? no, no, con i loro tempi piano piano ci potrebbero riuscire il 30% della popolazione del Lazio pensa che gli uomini siano meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche? non le vogliono fare, non è che non sono adatti pensi che aspetti soprattutto all'uomo provvedere alle necessità economiche della famiglia? abbiamo delle responsabilità ma che stai dicendo? il 58% della popolazione non è per niente d'accordo e meno male secondo te è l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia? abbiamo delle enormi responsabilità sì, a casa sua soltanto l'8% pensa che questo compito spetti all'uomo pensi che sia accettabile che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flertato con un altro? se ha solo flertato ma siamo pazzi? il 93,7% ritiene che non sia mai accettabile vorrei vedere pensi che sia accettabile controllare abitualmente social network e cellulare della propria compagna? no, inaccettabile se uno non ha niente da nascondere che problema c'è? per l'84% della popolazione non è mai accettabile non vi credo noi insieme ai nostri amici abbiamo giocato noi vi abbiamo mostrato che è facile cadere in pregiudizi e stereotipi e che la violenza non è poi così lontana da noi quindi mi raccomando, attenzione! ecco, questo è un video bellissimo che si è giudicato appunto il premio come miglior progetto creativo della prima edizione e andiamo avanti con gli altri progetti creativi che si sono avvicendati negli anni successivi anni in cui, ricordo perché non vorrei che questo webinar porti una confusione in realtà il prodotto multimediale è stato eliminato quindi i ragazzi di scuola secondaria di primo grado sono stati chiamati a realizzare un'istantanea quindi un prodotto statico proprio per tutte le ragioni che vi ho spiegato all'inizio allora, nell'edizione 2020 il premio scuola primaria è stato vinto dalla classe quarta A dell'istituto comprensivo Benedetto Croce di Paglieta in provincia di Chieti ed era un bellissimo racconto intitolato Cicogne in Abruzzo e questo racconto nasce perché i ragazzi hanno iniziato a lavorare e a confrontarsi sulle informazioni quantitative della loro regione e non sapendo da che anno cominciare hanno deciso di partire dal loro anno di nascita cioè il 2011 e quindi hanno cominciato a vedere quanti bambini erano nati in quell'anno e a confrontare i dati con gli anni successivi e questa ricerca che poi si è trasformata appunto in un bellissimo racconto in cui i protagonisti sono Cico e Cica che vedete qui sullo sfondo ha fatto scoprire loro come la composizione demografica della loro regione negli ultimi anni era andata a calare quindi vi era stata una diminuzione importante delle nascite sul territorio e questo è il messaggio appunto che hanno trasmesso in questo bellissimo racconto sempre nella stessa edizione questo è il premio scuola secondaria di primo grado dove la classe secondaria dell'istituto comprensivo via dei Gasperi di Seveso in provincia di Monza e Brianza si è aggiudicato il primo premio con l'infografica e quindi siamo arrivati al prodotto che siete chiamati voi a realizzare se siete insegnanti di scuola secondaria di primo grado la composta di Seveso ricetta passo passo per comprendere come è costituita il nostro comune mi apro una parentesi che io posso aver sbagliato la pronuncia del loro comune perché anche mentre li premiavo avevo il dubbio e loro credo mi corressero quindi può darsi pure che l'ho pronunciata male e mi scuso con gli abitanti di questo territorio questa bellissima infografia che cosa fa? descrive attraverso la combinazione di numeri, grafici e immagini la realtà socio-demografica del loro territorio scomponendola in passaggi ed ingredienti io ho screenshotato un pochino, l'ho tagliata all'infografia sia i racconti che l'infografia che vedete in questa mia presentazione non è completa quindi la loro completezza potete andarla a trovare sul sito dell'iniziativa il censimento permanente su banchi di scuola quindi attraverso tutta una serie di ingredienti e di passaggi chiave loro hanno raccontato il loro territorio utilizzando i dati del censimento e centrando in particolare l'attenzione sui dati del loro comune arriviamo all'edizione dell'anno scorso che ci ha dato il piacere grandissimo di poter premiare i ragazzi finalmente in presenza nell'ambito del festival della statistica e della demografia che si è svolto a Treviso a dicembre proprio quindi pochissimi mesi fa ed è stata una grande emozione poter premiare i ragazzi in presenza a dire il vero i bambini di scuola primaria erano collegati attraverso un maxischermo dal loro territorio, dal loro comune, da Puglia mentre i ragazzi di scuola secondaria di primo grado sono venuti, hanno fatto le valigie sono venuti dalla Puglia fino a Treviso in cinque con la loro insegnante per ricevere il loro premio quindi il premio scuola primaria dello scorso anno è stato vinto dalla classe quarta sezione unica della scuola primaria Mariaforte di Avilla di Puglia in provincia di Udine e anche questo è un racconto bellissimo perché viene suscitato dall'interesse che i ragazzi hanno mostrato per i dati sull'istruzione e sulla formazione soprattutto in relazione alla parità di genere la storia è quella di una bambina che come potete vedere anche questo è un frammento del racconto è stanca di andare a scuola e la nonna le racconta attraverso i dati di come in fondo andare a scuola invece soprattutto per le bambine oggi sia un gran privilegio perché nel passato erano soprattutto le bambine essere le più penalizzate da questo punto di vista e quindi vedendo tutti questi dati riguardo all'istruzione Camilla comprende la bellezza e il privilegio che invece lei e i suoi cotani hanno di poter andare a scuola tutti i giorni e forse lo hanno capito anche nei periodi un po' difficili della pandemia insomma che andare a scuola e stare in mezzo ai propri compagni è molto bello questa invece è l'infografica un pezzetto dell'infografica che ha vinto il premio a scuola secondaria primo grado lo scorso anno realizzato dai ragazzi pugliesi che sono venuti a Treviso in presenza appartenenti alla classe terza F dell'istituto comprensivo Angiulli De Bellis di Castellana Grotte in provincia di Bari e in questa infografica i ragazzi mettono a confronto i dati del presente e i dati del passato partendo dalla narrazione della storia di un personaggio locale importante che è Saverio De Bellis, pioniere dell'industria in Puglia e benefattore del suo paese attraverso la sua storia i ragazzi descrivono la realtà sociodemografica del loro comune a cento anni dalla scomparsa di questo personaggio sottolineando come sono cambiati quindi ecco anche questo è il messaggio importante e interessante che i ragazzi raccontano è nell'edizione 2022 che è in corso quest'anno chi staranno i vincitori? noi siamo curiosissimi e non vediamo l'ora di poter vedere i progetti creativi che realizzerete con la vostra classe prima di chiudere così il mio piccolo discorso vorrei mostrarvi qualcosa che sicuramente avete già avuto modo di vedere all'interno dei materiali formativi ovvero una storia che noi Franco dimmi se si vede per favore si vede il pdf? si 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 vede una storia che noi abbiamo raccontato naturalmente inventata da noi insedito nel modulo 2 che può mostrare come i dati possono suscitare dei racconti originali o come i nostri racconti poi possono trovare invece corrispondenza ma anche la nostra vita corrispondenza esatta con le informazioni quantitative che l'ISTAT produce e diffonde quindi nel modulo 2 troverete due giornate tipo della famiglia di Giulia e di Francesco una prima giornata a dicembre 2019 quindi normale precedente a quella che poi è stata un periodo veramente inedito della storia di tutti noi della vita di tutti noi cioè a dicembre 2019 quindi Giulia che si sveglia a un certo orario fa colazione va a scuola in macchina oppure a piedi tutto quello che viene raccontato nel corpo centrale è supportato dai dati risultati da indagini che l'ISTAT conduce quindi nulla è un caso il bambino Francesco che va a scuola possiede un nome che è molto utilizzato quindi nel 2006 sono oltre 10.000 i bambini che si chiamano Francesco quindi 3 bambini ogni 100 nati insomma quindi tutto quello anche la colazione, la tipologia di colazione su tutto ci sono questi dati su come si va a scuola in macchina, in bicicletta, a piedi su quelle che sono le abitudini dei ragazzi dopo che sono usciti da scuola la frequenza di altri amici oppure le attività extrascolastiche la cura degli anziani qui è tutta la giornata di Giulia e Francesco e poi la stessa famiglia viene raccontata nell'epoca della pandemia quindi ad aprile 2020 è una fotografia di una giornata in questa fase così complicata che è supportata ugualmente dai dati della statistica ufficiale che potete appunto leggere a contorno della storia narrata nel corpo centrale e questi dati e questa storia può essere così può darvi qualche idea su quello che poi potete raccontare voi insieme a vostri alunni poi noi abbiamo realizzato anche una scheda in cui ognuno dei ragazzi si può raccontare nel periodo prima, durante e dopo la pandemia con questo io ho concluso la mia riflessione vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola a Franco intanto io ho risposto a alcune domande in chat Francesca quindi se vuoi leggerli anche la chat mentre faccio il mio intervento si vede se non siete d'accordo su qualche risposta che ho dato per esempio se concludete ci chiedono una cosa poi ne parliamo dopo magari ci chiedono dove verrà fatta la premiazione del prossimo anno e non si sa ancora in realtà dovrebbe essere treviso penso io ma non è stato ancora deciso diciamo che ve lo faremo sapere infatti probabilmente sarà treviso ma non è ancora stato deciso il luogo esatto insomma treviso è una letrina dove si fanno queste premiazioni ma non è detto che possa essere anche un'altra insomma io adesso sto vedendo le mie slide pure allora la metto in condivisione mentre Franco si prepara rispetto alla premiazione sul regolamento io vi invito sempre noi abbiamo scritto tutto sul regolamento quindi lì potete trovare anche questo genere di informazioni il tipo di premio chi premieremo quest'anno quest'anno vogliamo premiare molte più classi quindi se andate a vedere sul regolamento potrete trovare queste informazioni ah sì c'è chiaro anche per la preparazione io mi scuro Franco ok va bene dopo l'intervento poetico e creativo e bellissimo di Francesca il mio sembra particolarmente poco molto pragmatico però purtroppo vi parla anche di cose pratiche e mi parla del problema in particolare di nuovo della piattaforma che ormai la maggior parte di voi conosce l'ha già sperimentata proprio l'altro ieri però magari qualcuno di voi non è particolarmente la scienza di gare quindi comunque facciamo un piccolo ripasso su come utilizzarla insomma intanto questa ormai la filosofia dovrebbe essere chiara però comunque ripassiamola un po' insieme come funzionano i codici classe i codici classe sono composti quell'anno prossimo probabilmente cambieranno perché quest'anno c'è un problema con i plessi con alcune scuole forse cambieranno però per quest'anno fino alla fine di quest'anno verranno queste regole ovvero si parte dal codice meccanografico della scuola ne ho messo una a casa non di voi ovviamente una scuola romana e ad esempio partecipa alla terza di questa scuola il codice classe è composto semplicemente dal codice meccanografico tutto minuscolo mi raccomando quando fate la password quando scrivete la userid sul sistema tutto minuscolo deve essere è composto quindi dal codice meccanografico più la classe e i numeri in arabi più la sezione tutto minuscolo quindi in questo caso diventa il codice meccanografico più 3a alla fine 3b oppure 2b e così via insomma però ormai lo sapete già alcune di voi hanno ricevuto da noi dei codici particolari ma c'erano delle ragioni specifiche per i plessi per altri motivi non mi dilungo su questo sono casi particolari che abbiamo discusso con alcuni di voi i giorni scorsi abbiamo fatto dei codici specifici che dovete continuare a usare per il proseguo dell'attività insomma e questa è la piattaforma l'indirizzo lo vedete sopra è un po' controintuitivo l'indirizzo perché in realtà la piattaforma è nata questa URL che vedete sopra è nata per un'altra iniziativa sempre di promozione della cultura esternistica dell'istat e quindi vale questo link che vedete sopra si presenta quando si entra in questo link in questo modo una volta entrati per entrare per entrare proprio nel sistema bisogna andare su un'altra a destra cliccare su login e compare a questo punto la schermata che si vede sotto devo usare per entrare la user e la password già utilizzate per le scienze gare quelle che avete usato due giorni fa riguardatevi la password che avete utilizzato che avete cambiato utilizzato ovviamente chi di voi ce ne sono molti insegnanti che sono referenti di più classi dovete utilizzare dovete entrare tante volte quante sono le vostre classi così sempre nell'ottica di caricare il progetto creativo questo sto dicendo ovviamente per la seconda fase ma le scienze gare sono passate sono finite i risultati verranno pubblicati ci avete chiesto in molti pensiamo alla settimana prossima ci stiamo lavorando sopra con i nostri grafici per pubblicare quindi se servete più classi dicevo dovete entrare più volte con ciascuna username e password che può essere anche la stessa per esempio per tutte le classi non c'è problema entrare più volte sulla piattaforma per caricare i vari progetti creativi una domanda fatta prima sì se la scuola ha più classi non potete caricare lo stesso progetto più volte perché altrimenti non avreste l'attestato non avrebbe senso quindi purtroppo se la scuola ha più classi se il docente ha più classi dovrebbe creare progetti creativi plurini diciamo diversificati che possono anche essere diciamo simili tra loro partire per esempio dalla stessa indagine dalla stessa idea però poi coniugarla comunque in maniera differente all'interno all'interno di un frame comune per esempio per sviluppare lo progetto simile su più classi ma comunque il progetto creativo in sé deve essere diversificato deve essere diverso tra le varie classi i docenti che non avessero partecipato alle censi care e che possono comunque partecipare alla seconda fase del progetto creativo quindi non è assolutamente ostativo se non avete partecipato alle censi care potete partecipare comunque potete caricare il vostro progetto creativo e anche il contrario potete partecipare solo a censi care e non fare il progetto cioè viene la libertà di fare come volete cioè o solo censi care o solo progetto o come lo spieghiamo no ovviamente entrambi se non avete per to chi di voi non ha partecipato alle censi care due giorni fa deve comunque entrare in piattaforma forse non l'ha ancora fatto per la prima volta e in questo caso visto che non l'ha ancora fatto deve cambiare la password che è change.me l'ho scritta di default deve cambiarla e mettere una password nuova ovviamente invece chi l'ha già cambiata non deve fare questa operazione ma utilizza la password che ha già impostato due giorni fa o precedentemente insomma e una volta che si è entrati chi l'ha visto l'altro giorno lo sa già insomma ma qualcuno non l'ha fatto le censi care quindi può non saperlo si va su sul pulsante di varie iniziative poi si clicca sul censimento ovviamente sui banchi di scuola e infine sull'edizione del 22 come diceva Francesca è un po' controintuitivo perché alcuni ce l'hanno chiesto dice ma non c'è quella di quest'anno no 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 è quella di quest'anno il 22 è quella di quest'anno perché si riferisce appunto come diceva già Francesca poco fa all'inizio dell'anno scolastico all'anno iniziale ah una cosa importante ecco chi ha partecipato alle censi care giorni scorsi due giorni fa probabilmente l'ha già fatto però qualcuno potrebbe non averlo fatto se non l'avete ancora fatto potete tornare già adesso in questo momento nei prossimi giorni comunque insomma domani quando volete insomma entrare sulla piattaforma di nuovo con la vostra user e passo della vostra classe e scaricare vedete qui a destra è scritto c'è proprio in realtà un hyperlink anche se non sembra c'è scritto scarica l'attestato di partecipazione alle licenziali quindi potete scaricarvi il vostro attestato probabilmente l'avete già fatto la maggior parte di voi però se qualcuno ha dimenticato di farlo può entrare e può ancora farlo e quindi in automatico vi scaricate questo attestato che potete utilizzare come volete come prima se qualcuno chi di voi non se perché ci sono chi di voi ha più classi deve entrare per fare questa operazione tante volte quanto sono le sue classi con le varie username riferite alle varie classi di cui è referente praticamente allora per caricare il britto creativo è molto semplice in quest'area anche ora non è ancora attiva infatti ho fatto lo screenshot ma non è ancora attiva perché sarà attiva dal 6 marzo però in quest'area qui del progetto creativo sarà possibile caricare un upload molto semplice il progetto creativo nel formato che avrete insomma la piattaforma per il caricamento del progetto sarà aperta dal 6 marzo quindi dal lunedì prossimo fino al 31 marzo quindi avete ancora tutto il mese di marzo per lavorarci e per caricarla quindi non abbiate fretta di caricarla se volete se avete già finito alcuni di voi stavano già lavorando forse potete caricare anche il 6 marzo ovviamente però avete tutto il mese per rivederla per rivederla a quei ragazzi per animarla insomma per migliorarla e così via e anche qui come per come per licensicare adesso mettiamo un attimo indietro ecco per esempio se vede qui vedete anche qui c'è non sembra un hyperlink ma insomma un hyperlink quello di scaricare l'attestato quindi una volta che avete fatto avete caricato il vostro lavoro il vostro progetto creativo potete scaricare l'attestato di partecipazione anche a questa seconda fase questa del progetto creativo in senso e poi l'ultima cosa l'ho già detta ma la ripeto insomma assolutamente non c'è nessun problema ce l'avete già chiesto qualcuno di voi i giorni scorsi chi martedì scorso è stato impossibilitato per problemi organizzativi perché quel giorno era concomitante con altre iniziative con uscite con misi di studio con qualsiasi altra iniziative che poi era successo di quel giorno e non ha potuto partecipare lecensicare agli due giorni fa non ce ne funzionano bene ma potete comunque caricare il vostro progetto creativo sulla piattaforma l'unica cosa ovviamente non avrete il bonus eventuale bonus dovuto allecensicare ma non è sempre se il vostro lavoro è fantastico vince lo stesso insomma quindi non vi preoccupate assolutamente di questo se non avete partecipato potete assolutamente partecipare a questa seconda fase creativa del progetto creativo e caricare il vostro lavoro praticamente lo sono brevissimo pratico brevissimo tanto quanto Francesca è creativa e ricca nei suoi contenuti insomma quindi lascia sogniamo solo domande rispondiamo con Francesca eventuali domande grazie a tutti voi grazie Franco qui sto vedendo solo una domanda ci chiedono se ci sarà qualche proroga per la consegna del progetto creativo la risposta dovrebbe essere no però in realtà due tre giorni li diamo sempre quindi sicuramente ufficialmente la scadenza è il 31 di marzo che è un venerdì quindi è possibile che fino a lunedì noi daremo questa proroga siamo abituati a darla quindi ve l'anticipo e alla preparazione partecipa l'intera classe allora adesso se la la premiazione si svolgerà in presenza come lo scorso anno sì non c'è nessun problema queste sono indicazioni però che possiamo darvi con chiarezza solamente tra qualche tempo ecco però il nostro piacere è quello di certamente conoscere tutti i ragazzi scusami Francesca prima c'è stata una domanda che ho risposto perché mentre mi facevi vedere i video qualcuno ha chiesto ma quindi è un video quest'anno no ripetiamo ribadiamo quest'anno non è un video Francesca parlava della primissimo anno del 2019-2020 in cui è stato un video poi per le ragioni che ha esposto cioè per la pandemia per le autorizzazioni complesse quindi quest'anno è statico è racconto infografica nessun video più che infografiche basse è un'istantanea che può essere un'infografica ma anche una foto un grafico vedete voi una card social per esempio infatti non può essere un video in quel senso noi non diamo un formato specifico preciso per lasciarvi la libertà la grandezza dei fogli dei cartoncini è standard no c'è libertà di dimensioni per il racconto ovviamente è un foglio pdf quindi una 4 semplice da rappresentare invece per l'infografica potete sbizzarrirvi realizzare una card per esempio oppure un testo più che si sviluppa in lunghezza insomma quello che riuscite a a realizzare va benissimo purché sia una facciata quindi ecco alcuna altra domanda di prima che ho già risposto chiedevano tre facciate significa sei pagine no significa proprio tre pagine tre facciate tre pagine di word o tre pagine di pdf non sei tre veramente tre mi raccomando rispettate gli standard perché soprattutto il primo anno noi abbiamo avuto tanti progetti fuori standard dal punto tale che abbiamo dovuto premiare anche i più belli perché c'erano delle cose favolose però cerchiamo sempre siamo stati larghi perché era anche il periodo della pandemia i ragazzi hanno lavorato come potevano però cercate di rimanere in queste piccole regole noi diamo veramente delle piccole regole cioè le tre pagine del racconto e la facciata dell'infografia perché altrimenti poi siamo costretti a scartarli e noi questo ci dispiace molto noi non vogliamo scartare proprio nessuno quindi poi se voi volete fare un appendice perché tante tante classi lavorano in maniera veramente approfondita allora racchiudere l'intero lavoro solo in tre pagine una sola infografica spesso dispiace quindi potete anche mandarci tutto il materiale che avete realizzato di approfondimento noi siamo parti a ricevere tutto purché come progetto creativo voi specificate all'interno del foglio è quello racchiuso in una facciata o nelle tre facciate del racconto è importante così la commissione che verrà nominata andrà a concentrare l'attenzione solo su quello poi tutto quello che in più andrete ad aggiungere ci può rappresentare come siete arrivati a quelle tre pagine o a quella pagina però noi valutiamo unicamente il progetto creativo così come è definito nel regolamento qualche altra domanda? questa volta siamo stati bravissimi ne siamo tenuti in un'ora forse l'altra volta siamo stati un po' più lunghi poi fateci sapere non ricordo se mi sembra di sì ci sia un massimale di gigabyte per il caricamento allora 100 megabyte quindi voi potete caricare in qualsiasi questo è importante non l'abbiamo detto oggi bene vale la pena ricordarlo voi potete caricare un'infografica al massimo di 100 megabyte un racconto quindi vuol dire tanta roba è anche un racconto con tante immagini che non superi i 100 megabyte quindi questa è la grandezza massima poi non solo la domanda in Riva che magari può interessare anche agli altri c'è che è una docente in chat se c'è per il racconto se c'è un limite sulla tipologia sulla come si può dire sullo stile se può essere realistico se può essere fantasy potete anche scriverlo a penna per esempio qualcuno adesso non ve l'ho fatto vedere l'ha scritto addirittura a penna con una bella leggibile come stile può essere qualunque non deve essere realistico può essere fantasy può essere un fumetto una lettera su un racconto sulla tematica sullo stile del racconto siete completamente liberi con i vostri ragazzi di bambini di fare di scrivere qualsiasi cosa che abbia finenza col tema censimento e territorio ovviamente perché ci deve essere la tema se ci pensate è molto largo perché censimento e territorio vuol dire tutto dicevo a partire dalla vostra realtà proprio quella più prossima che può essere la classe fino al nostro paese il formato di ciò che è caricato deve essere allora pdf va bene anche il formato immagine jpeg per le infografiche o png va bene per il racconto anche un word banalmente può essere può essere un word o pdf no 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 pdf pdf è un formato fisso certo che non può essere è salutato il word ma non è effettivamente che non può essere mobile non possiamo toccare capito deve essere un formato fisso va bene ci sono altre domande qualcuno ci vuole raccontare noi possiamo anche interrompere la registrazione se volete farci qualche domanda o qualche volete sapere qualcosa su licensicare altrimenti tra poco vedrete tutto online va bene va bene allora chiudiamo qui questo secondo webinar siamo molto contenti di aver avuto anche oggi questa bella partecipazione e per qualsiasi cosa siamo sempre a disposizione ci potete scrivere all'indirizzo mail censimento.scuola chiocciolaistat.it vi auguriamo buon lavoro grazie a voi aggiungo una francesca scusa c'è una docente che è entrata tardi e quindi chiedeva delle informazioni come per l'altro faremo la post produzione con i nostri colleghi lo metteremo su youtube quanto prima insomma la settimana prossima quindi quando sarà su youtube vi manderemo per email e link a prevederlo di nuovo o a prevederlo di nuovo a mente chi l'ha visto oppure chi l'ha perso in parte o chi l'ha qualche con il vostro collega che l'ha perso del tutto potrà vederlo su youtube scusa mi sento interrotto molti stanno uscendo li saluto grazie buona serata a tutti grazie a voi buon lavoro salutateci i vostri ragazzi che noi vorremmo tanto conoscere e li conosceremo attraverso i loro progetti arrivederci grazie a tutti